Mentre il club Forza Silvio del Valdarno, Buccine e Montevarchi chiama a raccolta amici e amiche per la prima cena di autofinanziamento, in programma il 21 dicembre prossimo, le anime del centrodestra retino sono agitate più che mai. La rivoluzione del post Berlusconi o della nuova era di Berlusconi, a seconda di come si leggono gli eventi, crea indubbiamente spaccamenti o ritorni di fiamma. Rossella Angelini, ad esempio, donna azzurra baluardo del centrodestra retino per molti anni, anima indiscussa dell'allora Forza Italia, ha dichiarato il suo amore politico, si intende, ad Angelino Alfano e al nuovo centrodestra. Il ministro Quagliariello, con il quale mi sono sentita anche in questi anni di non attività politica, mi ha chiesto di costituire ad Arezzo in provincia i circoli del nuovo centrodestra, soprattutto circoli formati da giovani, gente giovane, 25, 30, 40 anni, e devo dire che ho avuto molto interessamento da parte di tante gioventù, di tanta gente nuova qui di Arezzo per collaborare a costituire questi nuovi circoli che sono la base del nuovo partito che si sta costituendo. Tra i simpatizzanti del presidente Berlusconi, ma anche di Maurizio Lupi, c'è il consigliere comunale e capogruppo del PDL, Francesco Francini, che però richiama i suoi in un comunicato all'unità prima di tutto. Sono semplicemente, dice il capogruppo consigliare di sette amici eletti consiglieri con il voto di preferenza, che nel nostro comune rappresentano la vera opposizione alla giunta Fanfani e al suo immobilismo. È per questo che al momento prediligo in maniera assoluta l'unità del gruppo consigliare, che, afferma Francini, se diviso sarebbe sicuramente più debole.